Salve a tutti ragazzi bentornati sul canale di Gabo91 rieccoci qui oggi con Satisfactory allora ragazzi io dal secondo appuntamento non è che poi sono andato così tantissimo lontano infatti qui come potete ben notare ragazzi purtroppo si è fermato completamente tutto perché innanzitutto ho finito tutto quanto il carburante ovvero la biomassa ma non vi preoccupate ragazzi perché tra un po' andremo anche a vedere un attimino che cos'è che possiamo fare dunque innanzitutto ragazzi volevo più o meno farvi vedere quello che ho fatto dunque quello che ho fatto è stato quello di andare a mettere ovviamente la fonderia no aspettate la fonderia ho messo la fonderia su questo lato poi ho messo la trivella e ho messo anche il costruttore che il costruttore ovviamente ci fa il lingotto di ferro mentre con il lingotto di ferro ovviamente ragazzi abbiamo l'uscita delle lastre quindi delle lamiere diciamo che ho fatto un lavoretto anche fatto abbastanza bene però comunque sia ragazzi bisogna andare avanti bisogna prendere ancora dell'altra roba eccetera eccetera dunque l'unica cosa ragazzi che volevo fare in questo episodio era quello di andare un attimino a personalizzare quello che poteva essere sia il nostro magazzino ovvero il nostro stoccaggio perché come potete ben notare la sotto lì stanno arrivando ovviamente le lastre però vedo che come detto non ci sta nessun tipo di alimentazione quindi non vi preoccupate perché adesso lo andiamo subito a fare ed ecco qui ragazzi il nostro magazzino per adesso è molto piccolino e molto spartano quindi non vi preoccupate e come potete ben notare ragazzi ho fatto una marea di raccolte di biomassa quindi di foglie e quant'altro infatti ragazzi ora andremo a metterli all'interno del macchinario lì ovvero vicino alla nostra base dunque allora mi avete detto che in tal caso i mostri escono ovvero gli alieni escono soltanto di notte per poter difendere ovviamente il minerale quindi di giorno ovviamente non spawnano quindi che cos'è che faremo quest'oggi faremo innanzitutto la costruzione del del aspettate aspettate un attimo perché perché adesso ci abbiamo un piccolo problemuccio ovvero dunque sono andato a cambiare ovviamente i tasti perché sul come potete ben notare in basso abbiamo soltanto 1 2 3 e 4 quindi per il semplice fatto che comunque sia ragazzi non posso andare a premere il pulsante numero 1 altrimenti qui su streamlabs ovviamente mi si cancella la registrazione quindi devo mettere assolutamente questo qui però mi servono 3 rocchetti di filo delle sbarre di ferro e del calcestruzzo quindi com'è che possiamo fare dunque allora aspettate ma facciamo così innanzitutto andiamo verso di qua e facciamo un'altra cosa ora vi faccio vedere dunque allora aspettate io qui che cos'è che tengo per poter fare il filo ovviamente ho bisogno del lingotto a parte il fatto che comunque si qui ci abbiamo vabbè a parte il fatto che che cos'è che ci abbiamo qui all'interno niente però aspettate allora qui abbiamo la mamma no la mamma non ce l'abbiamo ancora però in compenso abbiamo il gabinetto perfetto ottimo quindi non vi preoccupate perché poi dopo ci andremo anche al gabinetto dunque da quello che ho capito mi sa che la legna dovrebbe produrre ancora di più energia da quello che ho capito e ma scusate ma questi qua sono così strani però sti cosi ma perché sono così neri all'altro bella domanda ragazzi bella domanda allora vediamo un pochettino perché devo andare alla ricerca di minerale di rame quindi con il minerale di rame ovviamente riesco a trovare qualche cosa però ne abbiamo uno uno e uno oddio devo arrivare veramente in in culolandia se è per questo quindi scusate la parola e si ragazzi dovrei arrivare veramente quasi quasi in culolandia però non vi preoccupate perché si potrebbe fare tutto quanto così a manina allora vediamo un po' accento aspettate questo qua che cos'è il calcare sì perché mi serve quindi il calcare mi serve per poter fare ovviamente il calcestruzzo quindi lo vado a recuperare e vediamo un po' anche di mettere una trivella qui almeno così ci fa anche il calcestruzzo perché se non vedrete mi sa che ci sta sia qui che anche sull'altro lato vediamo un pochettino perché cos'è che riusciamo a creare quindi 78 84 88 calcare sì ok perfetto ottimo quindi perciò ne abbiamo veramente un paio quindi diciamo che già stiamo a posto sì diciamo che stiamo a posto non poi così tantissimo bene però comunque sia ragazzi si si può lavorare si può lavorare e quanto cavolo dura sto coso oddio ma oh mamma santa ma è così giganterrimo vabbè comunque sia ragazzi ne abbiamo uno ah no lì non è un giacimento qui è il giacimento allora facciamo così dato che adesso abbiamo il calcare ritorniamo alla base facciamo il calcare e poi dopo ovviamente dalle lastre che abbiamo le lastre nel magazzino ci possiamo creare ovviamente le sbarre di ferro quindi nessun problema nessun problema allora facciamo così mi serve dov'è che era eccolo qui quindi aspettate quante che me ne servivano per poter craftare quello che serve a me aspetta quindi numero 4 mi serviva allora bisogno di 3 di filo 1 di calcestruzzo allora 1 di calcestruzzo d'accordo quindi 1 di calcestruzzo ce l'abbiamo quindi facciamo così la roba che io vado a raccogliere ragazzi la lascio direttamente qua dentro quindi senza che mi vado diciamo a mettere in in tutta ansia perché di ansia non ce n'è bisogno poi ovviamente depositiamo la roba che non mi serve questi qui il carpace alieno mentre la noce argentata la tengo fuori perché mi ci potrebbe sempre servire e ovviamente ragazzi andiamoci a prendere il rame per poi anzi no aspettate prima del rame saliamo qua sopra e andiamoci a recuperare questo qua che cos'è calcare calcare puro ottimo ottimo perfetto ovviamente ragazzi non ho ancora esteso il nostro magazzino per il semplice fatto che comunque sia non ci abbiamo ancora la motosega quindi con la motosega ovviamente sappiamo tutti quanti che possiamo tirare ovvero possiamo abbattere alberi il che significa che magari andando a buttare giù un pochettino di alberi ovviamente abbiamo la possibilità di poter ampliare la nostra zona ovvero il nostro magazzino il nostro stoccaggio quindi facciamoci subito subito dov'è che era eccolo qua le barre di ferro ah no le barre di ferro dei lingotti però aspettate dai lingotti ragazzi aspetta 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 perché qui mi sa che ovvero qua ovviamente sono usciti un po' di lingotti da questo lato e qui infatti abbiamo un altro po' di minerale di ferro qui e un altro po' di minerale di ferro dovrebbe essere da qua vicino che adesso non ricordo dove allora piglia 67 ok perfetto quindi va benissimo anche così e devo fare ovviamente ragazzi le barre di ferro e mi serve il rame per poter fare il tutto quindi aspettate un attimo perché sennò ovviamente ragazzi vado in confusione quindi craftiamocene quanti più possibile magari una trentina quindi una trentina vanno più che bene poi abbiamo bisogno ovviamente del rame quindi il rame abbiamo detto che eccolo qui quindi a 180 metri si trova il rame quindi dovrebbe essere sopra questa costa se non vado errato vediamo un po' se non ho detto una capolata sì infatti dovrebbe essere da qua vicino qua fatemi da un'occhiata dovrebbe essere qua sotto sì infatti è qua sotto eccolo qui dunque vediamo un po' se non ci sta nessuno no non c'è nessuno ok perfetto quindi perciò possiamo scendere in tutta tranquillità e ovviamente qui ragazzi ci possiamo piazzare anche un'altra trivella con la trivella ovviamente possiamo sempre andare ad estrarre ovviamente il rame per poterci fare quello che ci serve quindi molto molto meglio così dunque allora aspettate fatemi vedere che cos'è che serve per aspettate inventario numero numero 4 però aspettate come che ah eccolo qua quindi per la trivella mk1 serve innanzitutto la trivella quella piccola quindi ce la dobbiamo andare a craftare mentre questo qui ce l'abbiamo questo qui pure ce l'abbiamo sì 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 non vi preoccupate ragazzi perché possiamo craftare più o meno qualche cosina in più oggi dai su almeno così stiamo a posto io ragazzi raccatto sempre roba quindi non vi preoccupate perché non saremo anzi non staremo mai a secco quindi non vi preoccupate perché gab raccoglie tutto raccoglie tutto sì in pratica io sono il secchio della spazzatura ecco come potete ben notare possiamo recuperare anche la legna quindi la legna è molto meglio rispetto alle foglie perché se non vado errato mi sa che con la legna ovviamente possiamo dare un po' più di più un po' di più di corrente ai nostri reattori a biomassa quindi va benissimo anche così allora scendi per adesso ragazzi siamo a posto quindi non vedo nemici né in lontananza né in vicinanza quindi ok ok ottimo perfetto va benissimo anche così dunque vediamo un po' vediamo un po' allora eccomi arrivato qui devo semplicemente creare il lingotto questo qui e poi ovviamente devo farmi il filo vediamo un po' quant'è che ne servivano quindi questo qui ragazzi lo possiamo pure creare allora facciamo così dato che abbiamo veramente di tutto per poterci creare il traliccio della rete elettrica quindi facciamo così aspettate andiamo qui io direi quasi quasi ragazzi di lasciarlo più o meno to qui e ovviamente con il numero 5 vado a collegare questa perché non si collega hai bisogno di cavo e materiali insufficienti ok quindi il cavo il cavo ovviamente si fa dal rocchetto quindi dal filo di rame possiamo farci ovviamente il filo di rame quindi filo di rame allora aspettate 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 eccolo qui quindi ce ne possiamo fare più o meno una ventina dai su diciamo che bastano e avanzano quindi diciamo che bastano e avanzano e poi dopo ovviamente collegare tutto quanto sotto i reattori ovvero sotto il reattore da biomassa quindi numero 5 collega questa collega questa e collegami anche no la fonderia collegami anche questa qua siamo a 3 mentre questo qui invece me lo dovresti portare qua sotto fatemi da un'occhiata materiali insufficienti ok quindi che cos'è che serve anzi no che materiali insufficienti spazio occupato in che senso lo spazio occupato scusa il filo è troppo lungo ah maledizione maledizione il filo è troppo lungo mannaggia la miseria mannaggia ma com'è che facciamo dunque allora innanzitutto fatemi fare dell'altro degli altri lingotti e mi devo craftare dell'altro filo quindi da questo qui ok perfetto e poi un altro pochino di filo va benissimo mentre per questo qui che cos'è che ci manca calcestruzzo e filo calcestruzzo e filo non è un problema calcestruzzo e filo quindi vai così ok ragazzi dunque allora ho collegato finalmente la corrente quindi tutto quello che abbiamo di bisogno dunque rivella fonderia e anche la cosiddetta il costruttore ovviamente sono tutti e tre attivi dunque allora diciamo che riguardante ovviamente come posso dirvi lo spazio purtroppo ragazzi non è che così imbranato che non so costruire eccetera eccetera soltanto che purtroppo ragazzi sapete com'è capirlo questo determinato gioco ovviamente richiede tempo e tante altre cose dunque allora io vorrei fare anche un'altra cosa vorrei andare ovviamente a creare la piccola tribella dunque ragazzi allora mi sono creato ovviamente la fondazione e ho messo anche officina e come che si chiama l'officina e il banco da lavoro quindi adesso possiamo iniziare a creare la tribella per poterla portare verso il giocimento di rame perfetto quindi mi ci sono creato ovviamente la tribella dove che si eccola qua perché perché se vi ricordate bene lì ci diceva di mettere ovviamente la tribella quindi senza la tribella ovviamente ragazzi non possiamo fare assolutamente niente quindi andiamoci subito a mettere la tribella e sto notando che sta scendendo anche la notte quindi stanno calando le tenebre raccogliamo un altro pochino di roba qui quindi spazzatura in men che non si dica vieni da papino perfetto sì a quanto pare ragazzi noi possiamo salire pure là sopra e quindi mo non è che ci facciamo tutti quanti sti problemi eh oppena perfetto uhlala dunque allora questa qui dovrebbe funzionarmi così quindi la lasciamo lei si apre ovviamente e inizierà ad estrarmi tutto quanto il rame molto molto carina molto molto figa devo dire quindi allora lasciamo questa tribella in uhlala innanzitutto ad estrarmi un po di rame perché perché qui ovviamente ragazzi come detto ci andremo a mettere la tribella la la tribella automatica quindi non vi preoccupate perché sarà fatto tutto quanto in in automatico ora ce ne ritorniamo indietro perché vorrei innanzitutto vedere di fare un altro piccolo stoccaggio su quel lato ovvero dov'è che abbiamo costruito la nostra mini officina perché perché lì su quel lato ovvero sulla mia destra quindi guardandolo così sulla mia destra lì vorrei mettere lastre di lamiera quindi le la lamiera le barre di ferro e qualche altra cosa vediamo un po oppure magari viti o magari non so che cosa mentre sotto qui vorrei mettere rocchetto di filo di rame i cavi di rame e qualche altra cosa e poi ovviamente da un'altra parte mettere il calcestruzzo quindi diciamo creare una sorta di stoccaggio quindi diviso con materiali su materiali quindi diciamo che non andiamo a mettere tutti quanti i materiali in un unico stoccaggio quindi perciò sarà suddiviso in più parti quindi vediamo un pochettino com'è che possiamo armarci con questa roba quindi vediamo un po facciamo così va arrivato a questo punto io direi quasi quasi di o per la di salire qua sopra vediamo un po dunque allora ragazzi io ho piazzato un pochettino di pareti quindi qui ho lasciato aperto mentre qui invece gli ho messo una piccola discesina in modo che noi possiamo accedere direttamente qui alla nostra piattaforma mentre qui ragazzi purtroppo e sottolineo purtroppo non abbiamo ancora le pareti con i buchini per poter far passare ovviamente il nastro quindi che cos'è che faremo su questo lato qui andremo a mettere ben tre contenitori ovvero tre stoccaggi mentre su questo lato qui ragazzi ho lasciato anche un'altra piccola uscita perché perché noi da questo da questo punto magari possiamo estenderci molto più in là con il nostro stoccaggio quindi vediamo un pochettino ragazzi anche come possiamo comportarci e quant'altro dunque vediamo un pochettino vediamo un pochettino perché perché qui la zona è molto molto interessante quindi devo soltanto costruirmi ovviamente i tre stoccaggi quindi vediamo un pochettino com'è che farli perfetto ragazzi allora io qui ho creato lo stoccaggio quindi l'unica cosa che devo fare ovviamente devo andare a rimuovere queste pareti perché altrimenti il nastro trasportatore non può passarmi da nessunissima parte e in tal caso ragazzi andiamo là sotto lì dove che abbiamo lasciato la mini trivella andiamoci a prendere i materiali che abbiamo estratto e ci montiamo subito una trivella molto più all'avanguardia ecco ed ecco mi è arrivato qua dunque per adesso non vedo nessuno ok ragazzi perfetto ho messo la trivella ok ragazzi perfetto dunque ho collegato anche i capi della corrente quindi ho messo un bel po' di tralicci per la corrente quindi ci siamo collegati direttamente dove è la nostra prima base quindi per adesso ragazzi siamo lì dove è la mia prima base e ora dobbiamo cercare quantomeno di creare la fonderia per poterci fare i lingotti di rame mentre dei lingotti di rame con il costruttore possiamo iniziare a creare il cavo di rame mentre i cavi normali ovviamente ragazzi devo mettere un piccolo sdoppiatore che mi dovrebbe portare il il materiale da una in un altro container quindi vediamo un pochettino com'è che fare ok ragazzi dunque allora qui mi sta estraendo ben quanto 60 al minuto quindi mi sta estraendo minerale di rame a 60 al minuto mentre qui facciamo i lingotti di rame mentre da questo lato qui ovviamente che cos'è che devo fare devo mettere il costruttore il costruttore adesso vediamo un pochettino ragazzi dove che lo possiamo mettere io direi quasi quasi di poterlo mettere direttamente al lato ok perfetto ragazzi dunque da qui invece li facciamo fare dato che stiamo parlando ovviamente di rame gli facciamo fare il filo di rame quindi dal filo di rame ovviamente lo dobbiamo portare allo stoccaggio che noi abbiamo installato prima ovvero la sotto la vediamo un pochettino ragazzi com'è che devo creare il il passaggio quindi diciamo che già da su questo lato qui già noi possiamo andare molto molto più che spediti vedete un po la sotto la le nostre cosiddette lastre com'è che stanno camminando dunque vediamo un pochettino nel primo container qui davanti gli mettiamo i rocchetti di cavi di rame nel secondo gli possiamo mettere ovviamente i cavi normali mentre nel terzo vediamo un po quello che vogliamo insomma ecco dunque è un gioco abbastanza difficilotto da capire però comunque sia ragazzi ci riusciremo e ci riusciremo e quindi ragazzi mi sto prendendo ovviamente il tempo necessario per poterlo capire per poter portare tutto quanto in gestione eccetera eccetera dunque vediamo un pochettino ragazzi di iniziare a creare questo piccolo nastro trasportatore ottimo ragazzi allora come potete ben notare finalmente stanno arrivando tutti quanti i nostri cavi di rame ed eccoli qua ragazzi molto 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 contento devo dire dunque vi faccio vedere leggermente il giro che gli ho fatto fare a questo benedettissimo nastro trasportatore allora lo vedete quindi inizia dalla sotto e arriva fin qua davanti diciamo che potrebbe anche starci perché perché se in tal caso noi ragazzi dobbiamo diciamo dividere le parti ovvero da cavo di rame con il con altre cose quindi ovviamente ragazzi lo possiamo fare senza un minimo di problema ed ecco qui ragazzi che parte direttamente da qui arriva qua sopra qui e parte arriva direttamente nel nostro stoccaggio niente ragazzi allora io ho detto questo concludo qui questo nuovo appuntamento della serie di Satisfactory mi raccomando ragazzi se questo video vi è piaciuto vi invito a lasciare un bel polligione in su a commentare ad iscrivervi insomma a fare tutto mi raccomando ragazzi dai noi ci si becca in un prossimo video ciao a tutti